Ci vuole la pazienza e la buona volontà che si affronta tutto. Ecco mettiamo un litro d'acqua. Una noce di burro. Ecco pochissimo di burro così non si attacca, si stacca della pentola quando io la giro che ora metto 700 grammi di farina, 700 grammi, ora come burro la mettiamo. Si spegne, ora già è pronto, si vessa sullo schianatoio e si deve raffreddare un pochino perché le male non si possono mettere così. Ora ci metto una bustina di vaniglia e rosmarino spezzettato. Ancora il blusche. Che aspetta con una blusche? Io mamma la faceva spesso la faceva perché faceva le sfince questa non è che faceva tanti dolci e allora faceva forse perché ci veniva più facile per fare più presto dalle volte mentre diceva voglio fare qualcosa, si ritirano tutti e ci faccio trovare una cosa all'improvviso e allora faceva le cose più semplici. e le forme sono quelle che faceva sua madre? Sì sì, quello dobbiamo fare, sempre quella è la tradizione che cammina. Ma uno lo deve friggere che è ancora tiepida o meglio farla raffreddare forse? Non va affatto questa prova veramente, chi sa se è fredda forse è meglio. E che colore devono venire? È un colore così, biondo. Più che io penso che sono più morbide. Non è vero. Oggi vuoi? Ti faccio. Sì, il胆.